Ah, ma tanto ormai manca, non so, manca meno di un'ora, non c'è più quel bastardo di Foxy Oh, oh, no, 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 no Mi ha fottuto Ma no, ragazzi, non va bene, cioè non riesco a superare la notte 2 Ecco Già non è andato Ah, non posso, ci stanno già muovendo Ma cosa sta succedendo? Ma Freddy comunque sta sempre per i cazzi suoi Com'è sta storia? Grazie a tutti Grazie a tutti